Già quando venne inaugurata la Biblioteca Ambrosiana nel 1609 era presente tra i manoscritti più preziosi un evangeliario in caratteri cirillici, slavo-ecclesiastici. È proprio ispirandosi a questa originaria presenza nell'ambito della Biblioteca Ambrosiana che nel 2008 è stata pensata e voluta la classe di studi di slavistica, che ha lo scopo di offrire una panoramica di indagine su tutto quanto riguarda la storia, la cultura, l'arte, la filosofia, la religione dei paesi delle lingue slave. Questo campo di studi è ancora più importante oggi perché ci ritroviamo in una situazione nella quale dopo alcuni decenni di separazione e di divisione nell'ambito dell'Europa rimane ancora un senso come di estraneità e di lontananza da parte di questi paesi, mentre invece è fondamentale ricostruire quel tessuto storico negli ultimi mille anni che mostra una piena compresenza e compartecipazione dei popoli slavi, dalla Russia fino agli slavi occidentali, alla costruzione della cultura e della civiltà europea.